Ciao a tutti! Oggi apriamo questi due pacchetti del nuovo set scondo primordiale Non si vede molto bene, perché non metti a fuoco? Ecco, questi due pacchetti del nuovo set scondo primordiale Inizio io? Sì Vado a iniziare tu questo L'ho chiesto e stavo già preso La domanda giusto per... Ebbè devo far vedere che sono... Sei vergognoso Il codice? C'hai visto? Sì C'hai visto? Sì, sono brava io Vuoi leggere tu? No Un legame mentale con Groudon? La reversa? Questa è del Signore degli anelli È la rara è Groudon Vado a farlo apposta Va bene È carina Non tanto Vai, apri tu Mettiti più qua nell'inquadratura E tu che devi inquadrare meno? E io che devo entrare nell'inquadratura? Scusa Vabbè, ma quelli Stai tipo quando tu... Stai a una televisione Ci sta la stellina E non sei qui È questo Me la ricordavo diverso Devo dire la verità Però... Non ti sei adattario Personale Ah, ok Stai a vedere Sì, sì Devi fare il trucchettino E come si fa? Giro Tre Davanti Un legame mentale con Groudon Un'altra volta Trico Bunnelby Widdle Uno zigzagoon È carino questo Ti piace? Sì Shroomish Starmy E un flygon Questa è carina Questa è la rara È la rara, sì Un flygon all Che vola Vedete come vola? Vabbè Se n'è andata Basta Saluti tu a me Sì Ciao Ciao E ci vediamo al prossimo video Grazie